Un grande vantaggio dei sistemi a letto fluidizzato è la loro grande flessibilità rispetto ad alcuni parametri che in genere sono un poco critici. Uno di questi parametri è sempre il contenuto di umidità. Molti sistemi alternativi vanno in crisi se l'umidità è elevata, oppure vanno in crisi se la biomassa o il materiale da trattare ha un potere calorifico o troppo basso o troppo elevato. Il letto fluido ha questa capacità, proprio per il principio su cui si fonda, di trattare un range di sostanze di natura biogenica come biomasse o come rifiuti in un campo molto ma molto più ampio di umidità e in un campo molto ma molto più ampio di poteri calorifici. Questo ne permette l'utilizzo anche con sistemi per combustibili per i quali i sistemi alternativi non sarebbero nemmeno concepibili come i fanghi municipali per esempio sono un esempio di questo. I fanghi municipali hanno trovato nel letto fluido il loro naturale ambiente per la loro valorizzazione energetica.